Buonasera a tutti, siamo qui a Riozzo per il post partita di Riozzese Cittadella dove i Biancorosa hanno vinto per 4-2, siamo qui con la grande protagonista di giornata, Bianca Codecà, attrice di una tripletta. Tanto complimenti per i tre gol, posso vederti subito un'analisi della partita, secondo te? Allora, secondo me è sempre più bene, ci devi andare in vantaggio due volte, poi il gol è un po' l'aria aperta, su due pari, comunque abbiamo mantenuto la concentrazione e siamo riusciti a ritornare subito in vantaggio, quindi non ci siamo persi in estate. Secondo te qual è stata l'arma in più, oltre ovviamente a tua tripletta, a tua prestazione per vincere questa partita? Il gioco di squadra, questo è il nostro apporto, noi giochiamo sempre di squadra, quindi non vince mai un singolo che non arriviamo in porta grazie a tutti i componenti della squadra. Poi ho visto una partita molto fisica oggi, vi hanno picchiato, vi avete picchiato anche un po' voi, avete reagito. Prese date, insomma, campo è molto pesante, soprattutto cento campo, è difficile giocare su un campo così, però niente, un po' prese, date alla parte. Concludiamo, ti chiedo allora l'obiettivo di questa squadra, che è la salvezza, però comunque è un quarto posto. Sì, infatti l'obiettivo è sempre quello, la salvezza, però abbiamo visto in questo giorno di andata che possiamo fare, comunque, male, anche alle big, e insomma è nato. Per effetto, grazie mille allora Bianca Contecan, ancora complimenti per la tripletta, e ci rivediamo per il prossimo appuntamento con Cartelino Rosa. Grazie, ciao.